Eccomi all'aeroporto di Inchuan. 7 di mattina, in tempo per i check-in. Allora, la ricerca del tabellone delle partenze, eccolo qua, Flight Informations, alle 8.00, check-in 39.55. Eppure qui, appena superi i controlli, arrivi già ai gate. E anche questo aeroporto è piccolissimo, come quello di Xinjiang. Però qui c'è uno Starbucks, che ormai sta ovunque, anche in Cina. L'autore che sentivo di carne bollita, quando sono arrivato qui a Inchuan, era di questo, veniva da qua. Molto vuoto questo aeroporto. Eppure qui, appena superiore, anche in Cina. Eppure qui, appena superiore, anche in Cina. Per farvi capire le dimensioni di questo aeroporto, noi siamo arrivati da Inchuan al Terminal 2. E da dove ha parcheggiato l'aereo, abbiamo preso il pullman, che ci ha messo letteralmente 20 minuti per arrivare al nostro ingresso. Dopodiché ho dovuto prendere un pullman che è uscito dal Terminal 2, è entrato in autostrada. E' uscito in periferia, ha fatto 10 minuti di strada tra la periferia e ci ha portato in un altro, in pratica, il Terminal 3 è un altro aeroporto. Anche questo, anche questo, sembra grandissimo. Poi ci sarà, immagino, ci sarà anche il Terminal 1. Un po' ora dovevo trovare l'ingresso corretto, perché questo è quello riservato a Hong Kong, Macao, Taiwan. In pratica è una città. Di in fondo ci sta Pechino, Che, insomma, ne vale la pena visitarla, perché, cavolo, la capitale. Sono finalmente al... vicino al mio gate. Dove hanno ricreato questo tempietto, con giardino, piscina, cascatina, pesci veri. E qui, tra l'altro, ci venni anche nello stesso posto dove mi fermai a bere un caffè. Stavolta di... quella volta era Starbucks, stavolta è Costa. E... mi fermai quando feci scalo nel 2017, dal Giappone. Tra un'ora e mezza ho il volo, quindi mi godo un po' il caffè. Mangio qualcosa, visto che non ho voglia di mangiare in aereo, onestamente. Magari mangerò il secondo... pasto, quello che servono prima dell'arrivo. Ma... quello che servono dopo la partenza non mi va proprio a mangiare. Quindi... Magari qualche... se trovo qualche noodles... veloce o così... allora... mentre ero alla ricerca di un ristorante, ho salito dalle scale mobili... Non mi ero accorto che era la first class lounge della Air China e sono entrato in questo ripiano. C'era una reception, ma qualcosa mi puzzava, perché vedevo che c'era scritto Lounge, Air China Lounge, e io ho fatto lo gnorri, sono passato, e in pratica mi sono ritrovato in quest'area con una lounge vera e propria, con poltrone, tavolini, aria per il caffè, e a un certo punto c'era proprio un'area buffet dove ho preso quello che avete visto prima nel video, riso, verdure, polo al curry, e un baozi alle verdure, tra l'altro buonissimo. E niente, ho fatto l'ognorio, mi sono servito, e poi dopo mi sono accorto che era la first class lounge, cioè riservata a quelli della first class, della prima classe, però al counter non mi hanno fermato, non mi hanno chiesto niente, quindi sono andato diretto, ho scroccato questo pranzo, diciamo, e anche se c'è, c'ho soldi da... c'ho ancora delle banconote da consumare, quindi non era quello il problema. Però ho fatto anche questa esperienza. Mi sono rimasti 150 yuan che andrò a usare la prossima volta. da un'altra parte. Noi, noi. Non mi sono capace, ma è un'altra parte.